Possiamo essere un partner efficace per gli altri aspetti collaterali della fiera di San Marco da un punto di vista culturale, turistico e di capacità di promuovere ancora di più questa fiera. Questo può essere un impegno che prendiamo per i prossimi anni perché già la città lo sta facendo con altri eventi culturali per centri da Sardegna che decidono mai di fare una preapertura a Cagliari per dare una visibilità ancora maggiore all'evento o eventi collaterali che possono sposarsi, magari una fiera che parte da Cagliari e arriva alla fiera di San Marco e così via. Ci sono molti elementi che possono consentirci di fare un percorso insieme. Cagliari cerca di essere la porta della Sardegna, non vuole fare la sopiglia tutto per cui l'ideale per noi è che i turisti, i sardi che hanno a girare per la Sardegna vengano a Cagliari, facciano un paio di giornate a Cagliari e poi vivano la loro esperienza nei tanti bellissimi posti, luoghi che abbiamo in Sardegna perché la Sardegna è tutta e noi siamo soltanto una delle porte. Quindi grazie e complimenti. Grazie a te.